Rossana Podestà, nata il 20 giugno 1934 a Tripoli, in Libia, è stata un'attrice italiana la cui vita e carriera sono state definite sia dalla bellezza che dalla profonda tristezza. Il suo viaggio attraverso il mondo del cinema riflette il glamour, le sfide e le tragedie personali che spesso accompagnano una vita sotto i riflettori. I primi anni di vita di Rossana sono stati unici, crescendo nella città culturalmente ricca e diversificata di Tripoli. Questo ambiente multiculturale ha nutrito il suo precoce fascino per le arti. Dotata di una bellezza sorprendente e di un talento naturale, ha rapidamente catturato l'attenzione dei talent scout, spingendola nel mondo del cinema. Nel 1951, alla tenera età di 17 anni, Rossana fece il suo debutto cinematografico in La strada lunga un anno, ponendo le basi per la sua straordinaria carriera. Gli anni 50 e 60 videro Rossana Podestà a scendere alla celebrità internazionale. Il suo aspetto accattivante e le sue versatili capacità di recitazione l'hanno resa una protagonista ricercata sia nelle produzioni europee che in quelle hollywoodiane. Tuttavia, è stata la sua iconica interpretazione di Elena di Troia nell'epopea del 1956 a Elena di Troia a catapoltarla verso la fama mondiale. La sua squisita interpretazione accanto ad attori stimati come Sir Cedric Hardwick e Jacques Cernas ha consolidato il suo status di sex symbol internazionale e ha stabilito il suo posto nella storia del cinema. Eppure, sotto la sfarzosa facciata della fama, la vita personale di Rossana è stata segnata da una serie di sofferenze e tragedie. Nel 1955 contrasse un matrimonio di alto profilo con Marco Vicario, un regista italiano. Nonostante le speranze iniziali per Aniunione Felice, la loro relazione dovette affrontare numerose sfide, tra cui la presunta infedeltà di Vicario e le incessanti pressioni delle rispettive carriere. La tensione sul loro matrimonio era evidente e gettava ombre sulle loro vite personali. Mentre la vita professionale di Rossana continuava a fiorire con una serie di film di successo e collaborazioni con registi famosi, le turbulenze nella sua vita personale hanno messo a dura prova il suo benessere emotivo. La patina di Glamour nascondeva le lotte emotive che dovette affrontare, ritraendo un netto contrasto tra la sua immagine pubblica e la realtà privata. Nel 1970, una tragedia colpì la vita di Rossana con forza devastante. Il suo amato marito, Marco Vicario, è morto inaspettatamente, lasciandola alle prese non solo con la fine del loro travagliato matrimonio ma anche con la profonda perdita di un uomo che un tempo aveva amato profondamente. Questo capitolo straziante ha ulteriormente aggravato i fardelli emotivi che portava. Dopo la morte del marito, Rossana si ritirò dagli occhi del pubblico, cercando conforto nella solitudine e nella riflessione. Aveva raggiunto la fama e il successo nella sua carriera, ma aveva anche sopportato il dolore e la perdita a un livello profondo. Il peso di queste esperienze lasciò un segno indelebile nella sua anima. La vita di Rossana Podestà serve da toccante ricordo delle complessità inerenti alla ricerca della fama e della fortuna. Il suo viaggio attraverso l'affascinante mondo del cinema è stato segnato da lotte personali e ferite emotive rimaste nascoste dietro la scintillante facciata del grande schermo. La sua storia incarna il paradosso della bellezza e del talento che coesistono con la profonda tristezza e la tragedia personale. In conclusione, Rossana Podestà sarà ricordata per sempre come anatrice la cui vita è stata un racconto avvincente del fascino e del dolore dell'industria dell'intrattenimento. La sua eredità si estende oltre i suoi ruoli sullo schermo, fungendo da testimonianza dello spirito umano duraturo che può perseverare anche di fronte ai dolori più profondi della vita.